Salve ragazzi e cari amici del web, sono Andrea Bruno e in questo momento mi trovo in Indonesia. Sono appena arrivato, sono nell'Indonesia nella parte dell'isola del Borneo e sono giunto passando veramente per la giungla dalla Malesia. Ho fatto un bellissimo viaggio, vi presenterò il mio viaggio con dei clip molto interessanti, sono sicuro di farvi cosa gradita perché ovviamente ho registrato dei clip molto impressionanti su quelle che sono le situazioni dell'interno dell'Indonesia, la parte dell'isola del Borneo. Ecco, questo che state vedendo qua è la mia cena, una cena in un luogo di super relax, molto bello, molto adornato. Abbiamo anche le ragazze locali che rendono ancora più simpatico al posto e vi è un bellissimo piano bar ad intrattenere la serata. Ecco, praticamente sono solo io, intrattengono solo me e mi trovo veramente benissimo. Qui adesso c'è un buffet, nel buffet c'è un po' di tutto, ho preso un piatto tipico che è molto simile a quello che ho già mangiato in Malesia, per cui è già un qualche cosa che conosco e mi do il buon appetito da solo e seguite i miei videoclip, le mie puntate di Vela do io l'Indonesia e noi intanto ci sentiamo alla prossima. Grazie. Grazie.